C'è il Don Antonio. Buongiorno. Ciao, ciao, ciao. La frase di stamattina è di San Francesco, almeno attribuita a lui. Senti che bella. Basta un raggio di sole per cancellare milioni di ombre. Wow. È bellissima. Vai, vai, ripetila. Basta un raggio di sole per cancellare milioni di ombre. Fantastico. Meravigliosa. Grazie Don. Ci sentiamo domani e ci vediamo presto in studio. Ciao, ciao.